La rete cresce anno dopo anno e le riunioni di rete previste nell'ambito del protocollo d'intesa sono diventate itineranti. Questo ha consentito da anni uno scambio di informazioni reali sul territorio, i vari soggetti gestori possono realmente scambiare le informazioni tra di loro e questo scambio ha portato adesso alla stesura del primo progetto di legge sulla materia. Il progetto di legge è un tentativo di riordino del quadro normativo che al momento sul territorio è molto frammentario perché il passaggio ovviamente dalla concessione mineraria dell'attività produttiva alla bene visto da un punto di vista culturale ha fatto sì che si creasse un vuoto. Questo vuoto la rete, l'ISPRA con la collaborazione di tutti gli enti locali e le regioni speriamo forse si colmerà e il tentativo lo si sta facendo con la collaborazione dei gestori che chiedono da tempo questo intervento dello Stato. Noi come ISPRA stiamo provando a supportarli, speriamo alla fine del protocollo tra circa due anni di avere raggiunto questo obiettivo. Nel frattempo la rete cresce, questo credo sia un primo risultato perché consente di dare forza a una richiesta verso le istituzioni.